Le uniche vittime del crollo sono state sedie, tavoli, scaffali e libri, ma lo spavento è stato grande. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il tetto del salone parrocchiale di Vico Barone è collassato. Per fortuna, in quel momento, all'interno della struttura non c'erano persone. A fare le spese del crollo, più di tutti gli scaffali pieni di libri che i volontari Hauser di Ziano, solo lo scorso lunedì, avevano finito di sistemare. I locali, nei pressi della piazza di Vico Barone e di proprietà della Curia, da qualche tempo sono infatti in uso all'associazione di volontariato, che solo pochi giorni fa aveva organizzato una sorta di mercatino del libro, proprio dentro il salone parrocchiale. Il crollo è avvenuto attorno alle 14. I soccorsi sono stati allertati da un abitante della zona, preoccupato dopo aver sentito il boato. Poteva finire in tragedia, solo il caso ha voluto che lì non ci fosse nessuno, visto che il salone era solito ospitare incontri, pesche benefiche, eventi e iniziative culturali. Dopo il crollo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni, che insieme ai colleghi di Piacenza, arrivati con autoscala, hanno lavorato per diverse ore alla messa in sicurezza dell'area, sotto gli occhi di una folla di curiosi. Sul posto anche i carabinieri di Borgonovo.